Al telefono un amico di Castelguglielmo che abita a Barcellona, la Michele Rostellato. Buongiorno Michele, come stai? Ciao a tutti, ciao, benissimo. Un saluto a voi. Abbiamo letto e sentito che anche voi avete più o meno le nostre stesse criticità. Come va? Beh, guarda, non è una situazione semplice perché, cosa vuoi, non possiamo uscire, ma come anche voi attualmente in Italia. Proprio oggi il governo spagnolo ha praticamente allargato il lockdown fino al 26 di aprile compreso, quindi in sostanza la Pasqua la dovremmo passare un po' tutti a casa. E niente, ovviamente sono anche uno dei tanti fortunati che comunque riesce a lavorare da casa in smart working, quindi senza recarmi in ufficio, quindi in remoto. E niente, rispetto a tanti, anche dei connazionali che purtroppo attualmente, complici alla situazione, hanno dovuto richiedere la propria azienda, la cassa integrazione. C'è differenza tra le varie regioni, Asturia, Catalogna, eccetera, eccetera, oppure c'è un comune denominatore e tutte le restrizioni sono uguali per tutti? Allora, le restrizioni sono uguali per tutte perché sono state prese dal governo centrale. Ovviamente prima il governo centrale di Madrid ha preso queste misure con un po' di ritardo perché ad esempio ci sono state anche delle discussioni tra Barcellona e Madrid. Queste qua sono discussioni e problematiche che si riportano dietro per via dell'astio che c'è, diciamo così, tra i vari livelli di governo. Però le misure chiaramente sono uguali, eque, per tutte le regioni, per l'Andalusia, per le Asturie, ovviamente ti dico dell'Andalusia perché dal primo al 6 dovevo andare proprio in Andalusia e mi hanno cancellato il volo. Quindi niente. La gente come sta accettando queste restrizioni? Con filosofia, con filosofia spagnola, oppure c'è nervosismo e malumore e malessere? Allora, bisogna fare un distinguo. Considera che Barcellona è pienissima di stranieri, in special modo gli italiani, che siamo una delle comunità con il maggior numero di persone, diciamo che all'inizio c'è stato il problema, all'inizio vedevamo video in alcuni quartieri dove la gente proprio usciva, e specialmente anziani, che sono le persone maggiormente suscettibili di prendere questa malattia, diciamo così, di essere contagiati. In alcune zone proprio loro uscivano anche senza mascherina, per dire. Purtroppo, cosa vuoi, tanti non gli hanno dato quella importanza, ok, che è necessaria, perché poi è successo che cosa? Proprio per questo, tanti la vedono, cioè la prendono un po' con filosofia, eccetera. Pare però dalle ultime, o meglio, da quello che vedo anche nel mio quartiere, quando scendo per fare un po' di spese, un po' di compere, non vedo più quasi nessuno, vedo solo un po', vabbè, qualcuno che passa con la macchina per lavoro, eccetera, e qualche macchina della polizia. Ecco, si è parlato della scadenza di questo lockdown? Fino al 26, proprio una notizia di tre ore fa, praticamente, da oggi hanno fatto la conferenza stampa e l'hanno prorogato fino al 26. Ovviamente, dal mio punto di vista, c'è stata un po' di... non l'hanno presa, o meglio, l'hanno presa con filosofia, perché rispetto all'Italia le misure restrittive sono iniziate molto più tardi, almeno una settimana e mezza dopo. Loro, a mio avviso, qua in Spagna, parlo della Spagna ovviamente, dovevano prendere le misure copiando nello stesso momento l'Italia, anche perché, non so se vi sono arrivate delle notizie o comunque delle immagini, l'8 di marzo, che si celebra il giorno, la festa della donna, qua in Spagna si organizzavano tranquillamente le manifestazioni femministe, che quindi ovviamente, rispetto chiaramente, complice anche il momento, era meglio forse, dico forse, evitare, insomma, o comunque proibire, proprio per evitare eventualmente un contagio. L'altro giorno abbiamo intervistato un signore di Mosca e ci diceva che, a differenza per esempio dell'Italia, l'età media è molto più bassa delle persone contagiate e purtroppo anche delle mortalità. Da voi siete messi come noi, nel senso che ha colpito più l'età adulta over 75? Sì, allora, ti dico una cosa, è successo che, non so se vi sono chiaramente arrivate le notizie, in alcune case di riposo, ad esempio, tipo a Madrid, mi pare su una, ne sono morti tipo dai 25-30 persone anziane, anche a Barcellona è successo qualcosa di analogo, sì, il numero, diciamo, delle persone contagiate è over 70, questo sì, perché comunque leggevo anche la stampa spagnola, proprio inerente a questo. Ce ne sono anche di media età, comunque, dai 40 ai 65, ok? Non è così diffuso tra i giovani, almeno, perché comunque non abbiamo avuto queste notizie. però gli ospedali, come voi vedete, anche le notizie, sono un po' abbastanza pieni, specialmente a Madrid, dal collasso quasi. Ecco, quindi, anche voi avete il problema di mancanza di apparecchiatura, attrezzatura negli ospedali, e di mascherine? La mascherina io, ad esempio, non l'ho trovata, perché le farmacie hanno cessato di venderle, almeno queste del mio quartiere, quindi io per uscire utilizzo una semplice bandana, ovviamente. Ho provato anche a fare la richiesta su Amazon, ma i tempi di arrivo sono abbastanza lunghi, anche se qua a Barcellona. sentivo una notizia che il governo dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe obbligare tutti ad utilizzare la mascherina finito il lockdown, però è anche vero che dovrebbero anche in teoria fornircela, e non sembra che ce la forniscono, come ad esempio ho sentito la regione Veneto, o sbaglio? Sì, sì, davvero, davvero. C'è stata un'azienda, una tipografia, che ha offerto 4 milioni di mascherine, che non sono presidio ospedaliere, ma che comunque possono aiutare. Michele, io ti ringrazio, naturalmente auguri e ci vediamo in Italia, va bene? Eh, spero presto. Sei stato gentilissimo, grazie ancora. Ciao, ciao.